Vogliamo anche parlare di una industria che va bene in Italia, parliamo di un'industria che porta numeri positivi, numeri addirittura in crescita per quanto riguarda le esportazioni. Le esportazioni italiane stanno segnando uno dei pochi segnali positivi dell'attuale situazione commerciale e industriale, particolarmente bene all'interno dell'export che funziona, è quello dell'agroalimentare, quindi il nostro cibo, quindi il nostro vino, quindi le nostre specialità, un nostro marchio, una nostra eccellenza, per usare un termine abusato, che vanno molto bene e che richiamano l'attenzione dall'estero sempre crescente. In campo di vino noi siamo andati in Veneto, la nostra Francesca Cararini è con il vicepresidente della Zonin, un'azienda estremamente nota nel settore dei vini, qui parliamo anche di quel prosecco che è proprio un simbolo di grande fascino. E quindi vediamo la linea. Ciao Francesca. Buonasera Roberto, noi ci troviamo in compagnia di domenico Zonin, il vicepresidente dell'azienda che ha anche ereditato uno tra i nomi, diciamo il nome più importante appunto nell'azienda, perché ovviamente alle mie spalle lo vedete, è domenico Zonin fondatore nel 1821 della Casa Vinicola, un'azienda importante soprattutto nel territorio Veneto, ma che produce vini in altre sette regioni e più in Virginia, insomma un'azienda che sta andando molto bene e che adesso si apre all'export. Però prima di chiederle questo, ci ha fatto un po' sorridere ieri il suo padre, ha rilasciato un'intervista in cui diceva che il vino fa moda, come mai? È molto simile alla moda, nel senso che anche il vino è soggetto delle tendenze e ogni tot anni, che di solito vanno dai sette ai dieci, cambiano un po' i gusti dei consumatori. Per esempio, alla fine degli anni 2000 hanno cominciato ad andare di moda i vini californiani, i vini sudamericani, dei vini rossi molto corposi, intensi, strutturati, e quindi anche i vini italiani delle regioni in cui si riescono a ottenere dei vini del genere, quindi la Sicilia, la Puglia o certi vini toscani, anche loro di conseguenza hanno preso l'onda perché incontravano il gusto dei consumatori di tutto il mondo. Poi questa tendenza è un po' calata ed è nata una diversa, che poi è andata completamente all'opposto, perché in questo momento i vini che vanno più di moda sono i vini freschi, leggeri, meglio se sono frizzanti o spumanti. Infatti in questo momento è il periodo d'oro del Prosecco, che è il vino per eccellenza del Triveneto, perché viene prodotto in Veneto e in Francia, Triuli, che in questo momento sta andando benissimo sia in Italia che all'estero. Infatti per parlare di estero voi vi state aprendo un po' ai mercati internazionali, soprattutto quelli cinesi, corretto? Sì, cerchiamo di aprirci a tutti i mercati. Pensi che dieci anni fa noi esportavamo circa il 25-30% della nostra produzione, in questo momento, quest'anno, esportiamo il 70%, quindi l'azienda è cambiata completamente, abbiamo aperto anche delle società di distribuzione negli Stati Uniti, in Inghilterra, stiamo guardando di aprirne una anche in Brasile, però devo dire che il paese che guardiamo con più interesse è sicuramente la Cina. È un paese che diventerà importante come potenzialità, perché in questo momento il consumo del vino italiano in Cina è molto basso. bevono soprattutto vino francese, perché i francesi sono arrivati prima di noi, e poi cominciano a bere vino cinese. Noi adesso comincieremo a farci conoscere, abbiamo visto che in tutti gli altri mercati nella storia, quando un po' alla volta siamo arrivati, siamo sempre diventati il numero uno nel vino, e speriamo di riuscire a diventarlo anche in Cina. Il fatto di aprirsi ai mercati esteri è una scelta dettata da un'esigenza di un mercato saturo in Italia, o proprio per una trasformazione, una filosofia aziendale che si trasforma e quindi sta anche al passo con i tempi, in un certo senso? No, pensi che negli anni 70 il consumo pro capite di vino in Italia era di 120 litri pro capite. Oggi è circa 38 litri, quindi i consumi sono diminuiti, perché le abitudini enogastronomiche degli italiani sono cambiate. E quindi gioco forza è andare a vendere all'estero, anche perché molti mercati nel mondo stanno invece avendo una posta tendenza, nel senso che i consumi aumentano. Pensi che sono gli Stati Uniti che tanti anni fa era un mercato non tanto grande, adesso è diventato il più grande mercato al mondo perché i consumi sono aumentati. L'esportazione comunque del vino non fa cambiare la qualità del prodotto? No, anzi è più complicata perché il consumatore sta diventando sempre più esigente e il vino italiano sta avendo successo in tutto il mondo in questo momento perché la sua qualità negli ultimi anni è molto migliorata. Quindi sicuramente un quadro positivo di aziende ovviamente che si trasformano sia per tenersi al passo con i tempi, ma anche giustamente per vedere anche il mercato estero che in questo momento diventa sempre più importante. Non so Roberto, se hai altre domande dallo studio? Sì, vorrei una domanda che sembra un po' scherzosa ma potrebbe anche non esserlo. Il presidente di Zonin ha anche detto, fra altre cose recentemente, se arrivassimo ad avere tutti i cinesi, e sono un miliardo e 600 milioni di persone, che bevono un bicchiere di prosecco, non so se al giorno, alla settimana o al mese, beh la nostra situazione economica e di mercato diventerebbe veramente molto brillante. Si tratta di un sogno o c'è qualche piano segreto in questa direzione? Sento poco, comunque penso di aver capito la domanda. Se ogni cinese bevesse un bicchiere all'anno del nostro vino, aumenterebbero le nostre esportazioni di un milione e mezzo di ettolitri, quindi una buona percentuale, perché la produzione totale è 40 milioni, quindi è una buona percentuale. Certo che è facile a dire, perché un bicchiere all'anno sembra una cosa da poco, però lo può farsi, è un po' più difficile. Ci vorrà qualche anno, poi siamo sicuri che dopo qualche anno riusciremo ad arrivarci. Bene, quindi molte grazie a Francesca Caralini, molte grazie a Domenico Zonin, congratulazioni per i risultati e soprattutto in bocca al lupo per questo piano, perché riuscire a far bere un bicchiere di prosecco, anche se una volta solo all'anno, a tutti i cinesi, mi sembra veramente un'operazione di marketing e di mercato di alto livello.